Fishing Expo, venerdì 24, sabato 25, domenica 26 novembre 2017, Forlì. Fishing Expo è il salone italiano interamente dedicato alla pesca sportiva e ricreativa. Stand espositivi delle migliori aziende ed ampio spazio shopping, dove trovare tutte le novità su attrezzature, accessori e abbigliamento. Prove pratiche e incontri con gli esperti, per tre giorni di divertimento e spettacolo. Fishing Expo è organizzata in contemporanea con Caccia in Country 2017, 24, 25 e 26 novembre presso la Fiera di Forlì.